Ti faccio vedere come funziona Google Maps Offline, te l'avevo promesso nel vecchio video quindi se vuoi capire di cosa stiamo parlando questo è il secondo video di una playlist dove parlo di mappe, navigatori, strumenti di navigazione e poi entreremo nel dettaglio anche a vedere proprio come costruire vere e proprie tracce GPX e quali strumenti, software ci sono per vedere, per creare i nostri viaggi. Io sono Daniele e questo è Motocicletta Team e oggi nello specifico vediamo come scaricare le mappe offline di Google quindi utilizzare Google Maps senza connessione dati, senza una sim, senza un hotspot, senza un wifi, senza nulla quindi andare all'estero, in Italia, in zone dove non c'è copertura e utilizzare Maps. Io lo utilizzo sul mio smartphone quindi vai a vedere se ti interessa come mai utilizzo il mio smartphone per fare i viaggi, anche viaggi adventure remoti e in posti remoti dove c'è poca civiltà come l'ultimo viaggio dell'MTA quindi vai a vedere come mai utilizzo quello strumento piuttosto che uno strumento più specifico e poi torna a vedere questo video oppure continua a vedere questo video dove ti faccio vedere come utilizzare Google Maps offline quindi ti metti comodo, è un'opzione facilissima di Maps ci vuole niente per capirla e un attimo, ti sedi sul divano prima di partire ti fai tutti i tuoi aggiornamenti delle tue mappe e basta, stacchi il wifi e inizi a navigare senza nessun problema ti faccio vedere quali limitazioni ha, in realtà ne ha molte poche secondo me è un gran vantaggio avere uno dei migliori navigatori esistenti al momento perché secondo me il più veloce, il più semplice, il più rapido, il più aggiornato è Google Maps ditemi quello che volete, Garmin, Tom, Tom e altri navigatori per me Maps è il migliore parlando di navigatori semplici, è il classico navigatore che ti porta dal punto A al punto B saluta, guarda qua, saluta, saluta quindi mentre giocate con il vostro cane, se ne avete uno vi potete scaricare le Maps in maniera molto rapida ci trasferiamo sull'altro telefono, vi faccio vedere la schermata passo passo come funziona e quali opzioni sono presenti, quali no ma ripeto per me è un enorme vantaggio appunto e basta poi più diventiamo pratici, più vogliamo crearci il nostro itinerario basta creare dei punti intermedi quindi possiamo andare ovunque e divertirci anche con Google Maps offline senza avere chissà quale navigatore mi trasferisco sul divano e sull'altro monitor e ti faccio vedere tutto, ciao eccoci qua sul mio smartphone di fiducia come vediamo qua in alto a destra non c'è la presenza di una sim non c'è il wifi attivo è completamente spento abbiamo qua Maps aprendo Maps così avrà queste impostazioni di, come si dice, nella memoria della cache quindi tutte queste icone che vediamo non fanno parte del Maps online semplicemente quando sono stato online mi ha registrato tutte queste icone tutti i posti dove sono stato, dove voglio andare, le avventure che stiamo creando quindi mi raccomando seguitemi Instagram, YouTube dappertutto ci sono tutti i link per vedere tutte le avventure che facciamo moto tendate, viaggi, esperienze, corsi ragazzi partecipate ai corsi basta la promotion è finita allora in alto a destra cliccando sul nostro account c'è una voce mappe offline clicchiamo su mappe offline qua ci sono tutte le mappe che io ho già scaricato e qua c'è un'opzione seleziona la tua mappa ovviamente per selezionare la mia mappa prima di partire noi a casa, sul divano attiviamo il wifi si collega in un nanosecondo apriamo le nostre mappe da scaricare e abbiamo questo riquadro quindi se vogliamo fare il nostro viaggio in tutta Italia lo dobbiamo fare passo dopo passo quindi riquadro dopo riquadro quindi ci scaricheremo prima questa porzione poi questa porzione poi quest'altra porzione e via discorrendo quando abbiamo fatto l'MTA io non solo mi sono scaricato tutta l'Italia completa perché avevo dei corsi tutto qua in Nord Italia ma piano piano mi sono scaricato offline tutta questa porzione dei Balcani ok? infatti per esempio io adesso vediamo vediamo cosa scaricare qualcosa che non ho allora se io volessi scaricare tutta tutta quest'isola non potrei farlo perché dovrei farlo in due porzioni quindi scaricherei prima questa parte e poi quest'altra parte vediamo un'altra mappa allora se non sbaglio la corsica ce l'ho però io la vado a riscaricare così l'aggiorna quindi scarica e sì ce l'avevo infatti sta facendo qua l'aggiornamento e qua me l'ha riscaricata di nuovo quindi si va a trasferire tutto quanto qua e qua qui qua dove scusate non la vedo più eccola qua una di queste due la posso eliminare quindi cliccando sui tre puntini abbiamo aggiorna visualizza rinomina elimina io la vado a eliminare perché non mi serve mi è rimasta questa oggi il 17 ottobre e questa è la porzione che ho appena scaricato 131 megabyte che mi occupa quindi veramente poco scadrà il 17 ottobre salvo aggiornamenti del 2025 quindi dura un anno questa mappa io vi consiglio una volta che voi vi siete fatti il vostro viaggio qua praticamente c'è tutta l'Italia più i Balcani una volta che avete fatto il vostro viaggio vi cancellate tutto vi pulite il telefono e poi riscaricate soltanto le porzioni che vi servono ora se vogliamo andarla a utilizzare togliamo i dati usciamo completamente via 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 qua vediamo che non c'è nessuna sim inserita wifi spento quindi non ho nessun tipo di dato da utilizzare quindi è offline la posizione funziona perché utilizza il GPS e il GPS come sappiamo è collegato direttamente con i satelliti quindi quanto più è sofisticato il nostro telefono quanto più sarà preciso però questo è un altro discorso voglio andare per esempio a Brindisi clicco su Brindisi ovviamente è offline me lo dice sei offline informazioni limitate le informazioni limitate quali sono? tutte quelle foto che ci appaiono su Brindisi su altre località e ovviamente le informazioni del traffico in tempo reale questo a noi non ci interessa clicchiamo indicazioni abbiamo solo l'opzione automobile non possiamo vedere come andare col treno non possiamo vedere come andare a piedi non possiamo vedere come andare con la bicicletta quelle sono opzioni online quindi le limitazioni che ha Google Maps offline sostanzialmente sono queste il traffico in tempo reale e tutte queste opzioni che come vedete dice impossibile connettersi a internet se volessi fare per esempio una capatina non lo so Cellino San Marco opzioni aggiungi tappa lo sposto lo metto sotto e scrivo Cellino San Marco e lui mi fa la sua bella deviazione quindi possiamo possiamo combinarci tutto il nostro percorso con tutte le opzioni che vogliamo e utilizzare Maps durante i nostri viaggi offline in Italia e all'estero anche se utilizziamo il nostro smartphone con la connessione dati qua in Italia vicino a casa nostra io consiglio sempre che magari le mappe che noi bene o male utilizziamo sempre ce le scarichiamo offline quindi qualora dovesse non trovare rete comunque possiamo navigare sempre e comunque le opzioni per quanto riguarda le opzioni di viaggio evita pedaggi evita autostrade evita traghetti scegli percorsi minor consumo di carburante e visualizza costi dei pedaggi queste funzionano quindi posso attivarle o disattivarle avviamo la navigazione e lui parte e ci fa navigare tranquillamente possiamo attivare disattivare la voce che io non ho mai utilizzato gli do un colpo d'occhio e vado basta finito di utilizzare google maps offline quindi ricapitolando velocissimamente vado sul mio account mappe offline qua ho tutte le mie mappe attivo la connessione dati seleziona la mappa mi fa vedere le porzioni che posso scaricare perché non posso scaricare più aumento il raggio più questo riquadro questo qui diminuisce quindi io zoom su dove mi interessa per esempio se volessi farmi un viaggio in Libia partendo da qui io vado a scaricare prima questa porzione poi anzi scarichiamola vediamo che succede scarica e la sta scaricando 14% 54% è scritta qua 86% 87 e via via fino al 100% una volta arrivati al 100% seleziono la mia mappa vado giù e arriviamo per esempio qui scarichiamo ancora adesso saltiamo direttamente ovviamente mi sta aggiornando un pezzettino della mappa di prima e mi sta scaricando la nuova mappa ok arrivati a questo punto stacco i dati mi ritrovo inaspettatamente in questo punto del mondo se io volessi partire da Sirte indicazioni invertiamole facciamo la posizione scegli sulla mappa e volessi o visitarmi questa città o andare in questo punto ok faccio ok e lui mi crea il percorso ci mette 27 minuti e 29 km ovviamente questi sono dati stimati perché non avendo le opzioni in tempo reale lui mi dice che bene o male la media è quella quindi 27 minuti nessun dato sul traffico ok e questo è quanto come avete visto in pochissimi minuti vi potete scusate vi potete scaricare le mappe che vi servono e navigare tranquillamente con o uno smartphone dedicato soltanto ed esclusivamente come navigatore come faccio io oppure comunque navigare senza dati col vostro smartphone opzione facilissima che non tutti conoscevano e secondo me è una cosa grandiosa possiamo quindi partire in economia senza effettivamente comprare un navigatore o uno strumento gps costoso perché costano un sacco di soldi quelli belli quelli fatti bene per poi dover saper scaricare le mappe dove andarle a trovare cosa sono le open street map e questo è un discorso che faremo più avanti in questa serie che sto facendo quindi con google maps offline si risolvono tutti i problemi per navigare senza nessun problema italia estero in tutto il mondo ok ragazzi grazie per essere arrivati fino a qui se questo video vi è stato utile vi ho fatto scoprire una cosa nuova oppure già la sapevate non si sapeva come funzionava oppure chi già di voi utilizzava google maps offline me lo scrivete nei commenti ci facciamo la solita chiacchierata qua sotto gas brillante ci vediamo nei corsi ci vediamo nei viaggi e ci vediamo in giro per la strada ero contro luce non fa niente ciao vi saluto anche Gino saluta fai ciao ciao Ha 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 ha!